è duro? è duro? si si è abbastanza duro basta fare così e testare se è duro il materiale il materiale è duro poi per vedere se è molleggiante fare così così cazzo e giro sì abbiamo ma ammaccata la padella si è la padella ma come dobbiamo fare è ok improvviso signori non vi preoccupate era tutto nello sperimento tutto nello sperimento questo questa cosa doveva cadere quindi è stato voluto è stato voluto ok vabbè ormai si è un po ammaccata eh sì si è un po ammaccata diciamo questo nostro anese disco volante questo e quell'altro